Ciao a tutti, da Roberto e chiaramente da Elettro Discount, siamo sempre in sede aziendale a San Zeranlambro a presentare oggi, visto che comincia a fare caldo, anguri e meloni, visto che c'è il periodo estivo. Ovviamente ragazzi, sempre kit a led. Bene, Brabus di Smart, l'ultima diciamo su tutta la categoria dei video che abbiamo fatto di Smart 4244, nuova Smart, quindi le annate come vedete, la nuova Smart, mancava proprio la Brabus. Brabus 2018, linea esclusive, quindi la serie diciamo top, serie quella accessoriata. Abbiamo reputato a fare oggi per esempio su questa bellissima Brabus, ovviamente base H4, abbagliante ad abbagliante, abbiamo deciso di fare il Sirio. Sirio, caratteristiche già presentate su YouTube, taglio di luce perfetto, dissipazione attiva, con temperature di esercizio nel punto finale del led, il più basso della categoria. Attenzione ragazzi che noi abbiamo optato anche per questo, per la mia utilizzazione, ma potete anche utilizzare un ZES o un COB, o comunque come vi piace a voi. La mia, diciamo il mio consiglio tecnico è il Sirio per una serie di caratteristiche che si sposano con la Smart che adesso vi faccio vedere. Poi per concludere, quasi concludere, ZES 2 con dissipazione sempre attiva, per base H16, fin di nebbia. Anche lì potete scegliere ovviamente quello che volete, COB, ZES 2, Sirio, eccetera, eccetera. Abbiamo scelto il ZES 2 perché ci piaceva. Poi, completando, abbiamo fatto anche la freccia cromo. Come vedete non si vede più il punto arancione che è un po' antiestetico, un po' bruttino, sembra una macchina degli anni 60. Questo punto arancione brutto. Ricordiamo che il punto arancione, nel momento che c'è la bellissima giornata, il sole penetra dentro e diventa tutto arancione. Con la cromo è inverso, più sole c'è più diventa cromato e più chiaramente l'estetica è più bella. Ve la faccio vedere anche acceso. Andiamo a vedere, accendendo adesso la macchina, metto le quattro frecce così si vede. Eccola qua. Ovviamente in fase di accensione, chiaramente diventa arancione come tutte le frecce classiche. Bene, allora, piccola particolarità di Smart, che ovviamente ce l'hanno solo loro ragazzi. I tedeschi ce l'hanno un po' con tutto il mondo ragazzi. Fanno un po' di cose strane. Allora, problematica, tappi. Allora, mentre tutti quanti hanno i tappi tondi, rettangolari, quadrati, la Smart ha l'uovo. Eccolo qua, l'uovo quello di Pasqua, eccolo qua. Questo è l'uovo di Pasqua ragazzi. Quindi, che succede? Ovviamente tutti i tappi nostri universali sono tondi. Cosa facciamo? Non lo mettiamo il tappo? Assolutamente no. Non c'è ovviamente quello fatto a uovo, perché c'è solo la Smart. Mettiamo un tondo. Come lo mettiamo a sto tondo? Se questo è ovale e il tappo è tondo, lo mettiamo tipo calza. Quindi a posto di essere bordato, diciamo, laterale, scusate, esternamente, lo bordiamo internamente. In questo modo cerchiamo di fare la tenuta il migliore possibile. Il tappo che noi abbiamo utilizzato, abbiamo utilizzato un tappo che praticamente ha il foro per far uscire il dissipatore. Chiude perfettamente, perché è come se fosse una calza. Perché ho utilizzato questo tipo di tappo? Mi sono accorto che la base H4 non era stabile, il basettone è quello, diciamo, dell'alimentazione dove si connette la parte elettrica. Ho visto che nel momento che si mette il tappo, vuoi una scossone, vuoi qualsiasi cosa, la parte elettrica andava a toccare la ventolina. Che succede se tocca la ventolina? Si ferma. Che succede se si ferma? Sì, il prodotto si brucia. Quindi mi raccomando, anche queste cose qua non sono cavolate, sono cose importanti, ragazzi, che io, con tanta esperienza, riesco a capire. Siccome il cliente, come tutti i nostri clienti, non abita qua, abita a 300 km di distanza. Ovviamente nel momento che tu installi, devi essere sempre attento e devi capire cosa stai facendo. E io mi ero già accorto che già mettendo il tappo ho sentito già la ventolina che si è fermata. Quindi vuol dire che la parte dove c'era la corrente è andata già a toccare il dissipatore. E quindi non andava bene. Quindi se il cliente si faceva il viaggio, il giorno dopo mi chiamava. Ma come mai la lampadina non funziona più? Non funziona più perché ha smesso la sua dissipazione e quindi si è bruciata. Ma è il problema, ragazzi. Quindi kit di Smart, classica e anche Brabus, abbiamo optato per questo tipo di tappi che fanno uscire il cavo elettrico. Molto importante soprattutto per poter fare una corretta installazione, un corretto orientamento. Mi raccomando, ragazzi. Bene. Come sempre, ragazzi, vi invito sempre in sede aziendale a toccare con mano i prodotti e magari anche scambiare informazioni tecniche con me. San Zeno e Lambro, in via 1 maggio, Civico 16, zona industriale Sud Milano. Il nostro sito è inter-elettro-di-scam.com dove trovate lo shop online della conversione di questa bellissima Smart Brabus, o comunque Smart classica. Anche la 4-4, quindi la versione quella allungata. L'email info-elettro-di-scam.com. Telefono fisso 02-98-26-0207. Ovviamente i nostri social. Oggi non c'ho la maglietta. C'ho la maglietta della Riatec, il marchio ovviamente storico nostro, che salutiamo la Ria World Italia. YouTube. Ragazzi, non mi sembra che vi devo dire altre informazioni. C'è veramente il mondo. Instagram, mi raccomando, seguite le nostre foto, video, classiche. Iscrivetevi al canale. Facebook e Twitter. Ciao!